Oggi nel Team Music Studio è passato a trovarci il gentleman della discografia italiana di questo momento, Guay Pequenio. Ciao, grazie. Abbiamo parlato del suo album, un successo strepitoso che spazia dall'hip hop al rap ma anche alla trap e con sonorità americane che a noi ci piacciono molto. Abbiamo fatto proprio tutto. Sì, ci ha raccontato anche degli aneddoti, le collaborazioni. Fantastico. Abbiamo scoperto che ami tantissimo Napoli. Sì, tantissimo. Pure Sud America, pure l'Italia, l'Italia in generale. Anche Roma, dove siamo. Roma, Milano. International Rap è qui. Quindi se volete sapere che cosa è successo non dovete farlo che ascoltarci.